story time evoluzione radio alla sia formata nel 2016 come vi ho detto è un'associazione che partita da zero quindi una nuova associazione quindi proprio con un nuovo codice fiscale quindi formare dell'associazione qualsiasi altra attività in questi anni dopo il 2000 è molto difficile quindi sia a livello proprio di formazione anche economica per poter portare avanti una nuova attività quindi grazie a numerosi collaboratori che ci sono venuti dietro con la loro diciamo manovalanza e intenzione con questa grossa passione che è la musica abbiamo formato questa nuova attività attualmente all'interno di questa associazione si è formata la corale città di san vincenzo e l'orchestra sinfonica città di san vincenzo sono quindi i due organi più grandi quindi principali dell'associazione che appunto svolgono in tutto l'anno sia a san vincenzo all'interno del comune ma anche nei paesi circostanti infatti presenteremo anche un nuovo evento in prima assoluta in un teatro di una concittadina vicino alla nostra quindi eventi ce ne sono tanti per fortuna negli anni abbiamo sviluppato dei grandi rapporti anche con altre associazioni eventi di beneficenza il repertorio che trattiamo va dagli estratti d'opera dalla messa in opera proprio delle opere quindi con costumi e recitazione fino al repertorio classico sacro e barocco già da qualche anno stiamo facendo anche un repertorio di colonne sonore da cartoni animati e film quindi è un bel repertorio grande il tutto ecco ecco benissimo quindi intanto vi ricordo anche per voi amici ascoltatori che se siete curiosi ovviamente di andare a visitare anche le pagine social trovate il tutto su facebook associazione culturale musicale città di san vincenzo su instagram acm città san vincenzo tutto attaccato ovviamente su youtube acm città san vincenzo e poi il sito web che è www.acm città san vincenzo.it dove ovviamente troverete tutte le informazioni dell'associazione culturale musicale ecco e ci stavate infatti accennando anche qualche progetto ovviamente futuro ci volete un po raccontare come si imposterà questo questo concerto possiamo chiamarlo così certo allora posso dire una cosa ho conosciuto tommaso proprio in un suo concerto che era stata ospite e sono rimasta colpita da proprio dalla sua professionalità e dalla sua energia nel dirigere proprio anche fisicamente un complesso enorme di strumentale e corale e devo dire che è stato un concerto anche impegnativo perché era un repertorio molto sostanziale e quindi gli faccio complimenti e questa cosa mi ha anche indotta con una partecipazione con lui perché professionalmente merita story time evoluzione radio story time evoluzione radio Grazie a tutti